Si torna a parlare dell'attesa riunione di Friends. Questa volta è David Schwimmer a dare gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori dello speciale che andrà in onda in esclusiva sul servizio streaming di HBO. Le riprese dello show sarebbero dovute partire a marzo, ma l'emergenza coronavirus ha spostato tutti i lavori su film e serie tv rimandando molte delle serie programmate per il 2020. L'interprete di Ross nell'opera nata da un'idea di David Crane e Martha Kufman ha quindi risposto alle domande dei giornalisti di AP Entreatment, in particolare sulla data d'inizio delle riprese. Ecco cosa ha risposto. Speriamo di riuscire a girarlo a breve. Per adesso stiamo già pensando ad agosto, se la condizione lo permetterà. Avevamo in mente di girarne una parte con il pubblico. Comunque non ci sarà una sceneggiatura, non avremo la parte dei nostri personaggi, sarà un'intervista con tutti e noi sei, per la prima volta in quasi dieci anni. Vedremo, speriamo di riuscire a farlo ad agosto, altrimenti aspetteremo quando la situazione sarà più tranquilla. Siamo sicuri che i numerosi fan della serie tv saranno comunque entusiasti di vedere il cast di nuovo insieme, anche se sarà solo per un'intervista. Nel frattempo è intervenuto anche Chris Evans, nel format Actors on Actors di Variety, Paul Rood. Ha raccontato la sua esperienza sul set di Friends, insieme appunto al suo collega, in cui ha interpretato dal 2002 al 2004 Mike Hannigan, interesse amoroso di Phoebe. L'attore ha raccontato di essersi sentito un po' un pesce fuor d'acqua nello show. In una cosa come Friends ha raccontato, io mi sono sentito un po' un pesce fuor d'acqua, lo show parla di loro. Ci sono finito solo per un caso, mi sono sentito un po' come un accessorio nello show. Non è su Mike Hannigan, ma è stato comunque molto interessante far parte di qualcosa che ha avuto un impatto così profondo sulla cultura pop. Come ha raccontato in passato a Metro, inizialmente Paul Rood aveva firmato soltanto per due episodi, ma a causa della chimica creatasi sul set con Alicia Cudrow, gli sceneggiatori David Crane, Kevin Bright e Martha Kaufman hanno deciso di strutturare più a lungo il suo personaggio. Ho davvero dei bei ricordi, ma a fare tutti quegli episodi? Quella è stata una novità per me. Non è mai stata l'idea originaria. Avevo firmato soltanto per due episodi, ma hanno continuato a scriverne altri e avevamo sempre più idee per il mio personaggio, quindi è stato sicuramente molto emozionante. Recentemente, anche due protagoniste di Friends come Lisa Cudrow e Jennifer Aniston sono apparse su Actors on Actors, raccontando il loro primo incontro sul set e divertenti errori durante le prime registrazioni. Allora siamo pronti a vedere questa reunion di Friends, anche se solo per un'intervista sicuramente farà battere e tornare a quei tempi, ai tempi della serie TV e farà sicuramente emozionare tanti fan della serie.